Musica Abbiamo qui il primario il dottor Roberto Valle di cardiologia, anche questa mattina un grande successo, sempre più gente. Beh vuol dire che la cosa funziona e che la sensibilizzazione della gente dà i suoi risultati, è una soddisfazione, i pazienti cittadini sono tanti, speriamo di trovare meno pazienti possibili ma di contribuire ad educarli e avere la migliore salute possibile. Ma la risposta c'è? C'è una coda? La gente fa mezz'ora di coda anche pur di fare questi esami? Sì, ci sono diversi anni e quindi io credo che ci sia ormai consapevolezza che l'iniziativa funziona. Troviamo anche dei cittadini che sono venuti l'anno scorso e che sono contenti del risultato migliorato rispetto ai valori dell'anno precedente, quindi sicuramente funziona. Bene, complimenti, grazie e buona attenzione. Musica Musica